Ben trovati amici del Centro Meteo Italiano. L'anticiclone non molla la presa sulla Francia meridionale, con dunque un tour ancora baciato dal tempo asciutto. Non ci sono quindi preoccupazioni sotto il profilo meteo per l'attesa tappa di sabato 20 luglio, quando il gruppo dovrà affrontare il Tour Malé, dove posto l'arrivo ai 2115 metri. Lungo tutto il percorso il tempo rimarrà stabile con cieli poco o parzialmente nuvolosi, mentre il caldo verrà attenuato salendo in quota dove le temperature potranno scendere fino a 12 gradi. Attenzione a qualche raffica di vento anche sostenuta durante la frazione. Per tutti gli approfondimenti e gli aggiornamenti sul Tour de France vi invitiamo come sempre a seguire il nostro sito e il nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.